Perfetto, perfetto, ottimo, molto, molto, molto bene, eccoci qua, eccoci qua, wow, benissimo, 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 eccoci qua, allora buonasera a tutti, wow, quanti schermi stasera, sembrano Conte, parlo davanti a un sacco di schermi, eccoci qua, ci sentite? Anche su Instagram tutto bene? Ci sentite su tutto? Ci siamo? Perfetto, direi che ci siamo, abbiamo qua più schermi, veramente che non so che cosa, stiamo veramente iper organizzati, eccoci qua, allora, wow, wow, ci siamo, ci siamo, ci siamo, perfetto, ragazzi, allora, buonasera a tutti, prestissimo assolutamente, perché mancano ancora sei minuti all'inizio della lezione, quindi assolutamente presto, allora, che cosa facciamo? Vediamo un attimino di raccontarvi un pochettino che cosa facciamo e qual è l'obiettivo della giornata, allora, lo sapete? Aspetta due minuti, sì, è presto, è presto, è ancora presto, è ancora presto, mancano sei minuti all'inizio della lezione, io mi connetto sempre un po' prima, ragazzi, più che altro, perché devo cercare di fare le prove audio, vedere audio-video, vedere se tutto funziona, vedere assolutamente come va, ok? Perfetto, allora, se tutto va come deve andare, in questo momento siamo anche su YouTube, quindi fantastico, abbiamo un sacco di roba collegata, ok? Per l'audio sì, allora, ragazzi, perfetto, due informazioni veloci a livello di servizio, allora, attenzione, qui in zona non è bellissimo tempo, noi abbiamo fatto prova connessione, abbiamo visto che funziona tutto, che va tutto bene, quindi lo dico soprattutto per chi, come me, avesse imparato a usare il mondo internet da due mesi, io sono tra questi a due mesi che uso l'internet, ma non ci ho mai capito niente, allora, dicevo, cosa assolutamente è molto importante, non è detto che il problema sia necessariamente in sé, venia, ok? Io ora qua ho tutto ok, va tutto bene, mi sembra che sta funzionando, quindi ci sta che eventualmente se salta qualcosa potrebbe essere anche, tra virgolette, una situazione vostra, ecco, da tutto punto di vista, ok? Buono, perfetto, allora, iniziamo un attimino a introdurre che cosa andiamo a fare oggi. Oggi abbiamo il nostro IT, quindi abbiamo il nostro High Intensity Interval Training, ok? Allora, abbiamo fatto qualche modifica, ok? Ho introdotto quella che mi piace chiamare la fase di intro, ok? Oltre che nel GANG, l'ho introdotto anche nel LIP, quindi dopo aver fatto una prima parte di attivazione e di riscaldamento, andremo immediatamente ad incidere, da un punto di vista cardio, con quelle che sono le tre esercitazioni classiche, ok? Che utilizziamo molto spesso nel riscaldamento, solo che le inseriremo già nel contesto di un mini circuito, ok? Di un mini circuito ad alta intensità, per intenderci, questo è l'obiettivo che abbiamo dalla fase praticamente di intro, che è la fase di collegamento che c'è tra il riscaldamento e l'allenamento, il workout vero e proprio, ok? E questo sarà l'obiettivo della prima fase. Dopodiché, partiremo con tutto quello che sarà appunto il workout reale, ok? Sapete benissimo, lo dico perché magari c'è qualcuno di nuovo che non ci segue da due mesi come stiamo facendo, sapete benissimo che comunque l'IT è un allenamento appunto a intensità piuttosto alta, piuttosto impegnativa, quindi ci sta assolutamente che possiate, come posso dire, essere in affaticamento, ok? Tenete presente che noi daremo sempre il primo stop, quindi cosa vuol dire? Primo stop, mi posso fermare, posso valutare appunto di fermarmi e di non continuare, oppure andare avanti insieme al lavoro che faccio, ok? Inseguire il mio ritmo e vedere sostanzialmente come va, ok? Devo concentrarmi su un punto neutro da vedere perché ci sono tre camere, non capisco più niente, ok? Quindi questo sostanzialmente è l'obiettivo che abbiamo dal nostro IT, ok? Vi daremo un pochettino di varianti, soprattutto se ci rendiamo conto che effettivamente l'esercizio può essere un pochettino più difficile, un pochettino più impegnativo, ok? Quindi insomma, non vi preoccupate, riuscirete tranquillamente a starci dietro. Per chi lo chiedesse, discorso dei piedi scalzi, guardate il mio piedozzo, eccolo qua, il piede è scalzo soltanto per un motivo che è quello di non dare fastidio, lo vedo tante volte al famoso vicino che sta lì sotto, ok? Poi se avete le scarpe e potete permettervi di fare un pochettino più di rumore è assolutamente meglio, ok? Bene, perfetto, questo è. Per il resto che dirvi? Ore 18.13, due minuti alla partenza, preparatevi pure, adesso aspettiamo un attimo sicuramente quelli che sono i ritardatari e vediamo un attimino come va, ok? Siamo anche su YouTube, stasera l'ho già detto 27 volte, sì, perfetto, direi che possiamo partire. Controlliamo un attimo i collegamenti, vediamo se va bene. Wow, carichi eh? Mi raccomando, aggressive a bestia. Allora, qua ci siamo, qui ci siamo, qui direi anche, perfetto, anche qua direi che ci siamo assolutamente, sì. Ovviamente, wow, perfettissimo, perfettissimo, perfetto. Ok, ciao Alex, tutti carichi? Tutti pronti? C'è entusiasmo? Mi raccomando, entusiasmo che è tuttissimo, poi ricordatevi che aspettiamo sempre le vostre storie, aspettiamo sempre il tutto, ok? 18.14, si va ragazzi, buona fortuna, buona lezione, divertitevi, dagli è tutta, aggressivi a bestia, come sempre, wow, vediamo che succede. Allora, stiamo certi, sì, perfettissimo, ok? Mi posizionavo anche una cosa un po' meglio, perché sennò è un Dice, l'altro, eccoci qua. Sì, perfetto, benissimo. Devo prendere un po' le misure con tutto, ma direi che ci siamo, sì, vi vedete bene? Yes, vi vedete bene tutti, perfetto, ottimo, buono, buono, let's go, let's go with the sound e partiamo. Alla grandissima. ok, carichissimo stasera, ragazzi, ci credo da male. buono, pronto ragazzi, allora, cominciamo, mobilizzate le spalle, dietro e via, vai, let's go, bene, aggressivi e carichi, andiamo dietro le spalle, attiviamoci bene, mi raccomando ricordatevi che si parte subito a bestia con il cardio, cerchiamo di andare, belli carichi, buono, ok, alternato con le braccia, su e giù, anche ovo, vai, più che puoi, ampio, fluido e vai, esatto, molto bene, mi raccomando ragazzi, intensità bestia che stasera spaziamo, vai, buono, ancora, 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 perfetto, introdotto i miei saltelli alternati, primo piede, poi l'altro, ritmo e via, buono, vai, 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 ancora, ritmo bello attivo, vai che va bene, buono, lavora bene sul piede, vai, come è successo qua? vai, mi chiede se voglio trasmettere in diretta con te, buono, ragazzi, sempre attivi sui piedi, molto bene, metti la circondutto delle braccia in avanti, vai, occhio, buono, attivazione delle braccia in avanti, attenzione che si parte, pronti, jumping jack, ecco, leggeri, vai, partiamo assolutamente leggeri, tranquilli, senza esagerare, buono, 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 sempre leggeri e via, fai così, vai, 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 ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, buono, lentamente, le gambe larghe, movimento leggero, mezzo squat, salgo, mezzo squat e salgo, tranquillo e leggero, non esagerare che non serve, buono, sempre leggero e tranquillo, non portare a non esagerare, ancora, sempre controllato, buono, ottimo ragazzi, perfetto, corda in mano, finta, e saltelli, se lo sapete ovviamente la corda è immaginaria, gira vai, ritmo e vai, buono, bravi, sempre bene con la corda così, ragazzi, ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, buono, mangi sulle anche, leggeri davanti, affondo e spingo dietro, ricordati che non è veloce, è soltanto riscaldamento, ok, ti stai attivando, carico più che vuoi, non esagerare, dai, aggressivi che va bene, ottimo, easy, leggero, ancora, ancora, buono, vieni in controllo che va bene, ottimo, ragazzi di nuovo, jumping jack leggeri, go, andiamo, 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 ancora, wow, vieni in ritmo, abbiamo già un hit di fuoco, un hit da paura, vai, ancora, ancora, come hai chiesto, ma hit è il pagliato, no, hit, vuol dire high intensity interval training, buono ragazzi, attenzione, calciate dietro, leggera, ok, leggera, ma il tallone sale già fino al sedere, metto l'azione delle braccia, buono, ma quella posizione, spostamento avanti e indietro, vai, avanti, indietro, avanti e indietro, sempre molto leggero, avanti e indietro, ancora, buono, avanti, buono, indietro, ancora, avanti, indietro, ottimo, bravi ragazzi, bravi le gambe leggero, mezzo squat, salgo, mezzo squat, salgo, easy, sempre facile, non forzarlo assolutamente, non lo voglio veloce, lo voglio controllare, buono, ottimo, vai ancora, tantano ragazzi, l'ultimo, buono, bravi ragazzi, guarda, gira, guarda fin, ovviamente, vai, gira, ancora, ancora, buono, wow, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buono, mani silente, luci avanti, sempre controllato, esatto, non metterci in intensità, non serve, e vai tranquilli via, buono, wow, buono, wow, ragazzi, fantastico, la cosa bella in tutto questo, mentre facciamo riscaldamento, è che ormai su Facebook siamo fortissimi, Instagram stiamo crescendo, stiamo trovando a crescere, YouTube, canale aperto ieri, persone che seguono, due, e sono tutte e due da questa casa, fantastico, taggarola, avanti ancora, buono, non ballare, affonda e spingi, che è in alta intensità, buono, wow, ancora, ottimo, vai, buono, calciata dietro, e poi parte il blocco, buono, calciata dietro e vai, ottimo, leggero, sei sempre leggero sui piedi, non esagerare con intensità, sempre facile, buono, e ora c'è più gente, vai avanti, avanti, dietro, ottimo, ancora, avanti, dietro, buono, ancora, avanti, dietro, sul posto, più veloce, dai, 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 spingi, con mollare, sbretto ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, buono, step back con me, ok, ok, uh, com'è, perfetto, adesso entriamo, perché abbiamo fatto riscaldamento, nella fase intro, che definiamo come una fase di raccordo, ok, quella prima dell'allenamento, abbiamo tre esercizi cardio, ok, cerchiamo di tenerli il più possibile, pronti? Prima dell'esercizio lo sapete già, jumping jack, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, si va, jumping jack, ecco, ora devi cominciare, in modo graduale, ad aumentare l'intensità, vai, 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 ancora, buono, e tatto, se non te la senti di usare le braccia, non farlo, sulle mani, sulle anche, lavori solo sulle gambe, attenzione al primo stop, tra otto, primo stop, continuo ancora, vai, 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 ancora, buono, molto bene, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, step touch, buono, leggero e tranquillo, ok ragazzi, stazione numero due, sempre fase intro, poco spazio davanti a voi, basta un metro in metro, questo è l'esercizio, corsa avanti, corsa indietro, corsa avanti, corsa indietro, ok? Attenzione a dove mettete i piedi, da quando lo dico io, pronti? E, quattro, tre, due, uno, lato, avanti, e torno indietro, vai, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, non è veloce ancora, per ora ancora tranquillo, avanti, dietro, buono, primo stop, vai avanti se riesci, aumenta l'intensità, avanti forte, torno dietro, avanti forte, torno dietro, avanti forte, torno dietro, ancora con me, non modale, non modale, buono, ancora, buono, ancora, buono, l'ultimo, ok, torno al posto, step touch, buono, com'è? Possiamo? Sì, scarica la grande, ultimo esercizio della fase intro, uno, press Jack, le gambe lavorano sempre in salte e quello, le braccia vanno su e giù, come se avessi con lahertz a spingere, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, pronti? Vai, 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 vai! La battaglugatina! Buono! Vai che ci siamo a volere! Vai ancora, vai ancora! Vai ancora a volere! Buono! Primo stop! Continua! Senti che caldo, che caldo! 5, 4, 3, 2, 1, start touch, buono, ci siamo, sì, ci siamo una grande, ragazzi, tanta cosa, non si molla niente, ok, cosa succede? bene, ripetiamo un'altra volta sul circuito di 3 esercizi, poi vediamo e fate il vero lavoro, non ricordo il primo, jumping jack, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go, jumping jack, esageriamo, dai, forza, 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 fai salire l'intensità, vieni con me che poi è fatta, dai, ritmo è via, let's go! wow, vai, 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 ancora, ritmo è via, spinge non mollare, vai lavorare le gambe, spinge ancora, buono, ora, ancora, 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 primo stop, lavori non mollare, buono, wow, wow, dai, 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 ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, start touch, buono, sì, ce l'avamo, ce l'avamo, adesso c'è la torsetta, ok, avanti e indietro, poco spazio serve, va bene? mi raccomando, sono con voi, 4, 3, 2, avanti, torno, torno indietro, avanti, dietro, vai con me, spinge vai, buono! ancora, 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 vai, 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 ancora così, avanti e torno indietro, avanti, buono, dietro, ancora, avanti, dietro, primo stop, aumenta il ritmo se riesci, velocitano, velocitano! velocitano, 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 buono, 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 avvenzione, stop, start touch, buono, ne manca uno, tieni lo start touch, wow, ok, si va, va, bene, sì, andiamo col press jack, pronti? otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, let's go, let's go, let's go, vai così! spinge, spinge, non volare, 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 sp non volare 8, 7, 6 5, 4 3, 2 buono ragazzi wow pausa l'acqua e poi si parte il tuo lavoro buono wow ok ragazzi primo blocco è andato primo blocco non è un primo blocco era facile aspetta che vorrei che ci fossero problemi wow tutto bene per ora si alla grande tanta roba bene 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 come ragazzi ci siamo allora parte il primo lavoro ok mi raccomando seguite quello che faccio io va bene non vi state preoccupare tanto di quello di sapere prima gli esercizi anche perché se no sto qua e li annoio soltanto li vediamo tutti insieme di volta in volta ok mi raccomando ci proviamo e vediamo cosa succede va bene carichi più che potete parte il primo round let's go wow vediamo che succede ok si va il primo lo conosciamo da squat in fondo laterale in fondo il squat in fondo il squat in fondo laterale ok ok pronti con me let's go via squat lunge 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 squat squat lunge lunge buono 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 non voglio volare assolutamente continua così ancora vai vai stop buono start touch guarda al secondo scendi squat da quella posizione tiri su le punte dei piedi e scendi ok esercizio di controllo va bene start touch ci proviamo ok so che potete 8 7 6 5 4 3 allarga scendi e la go sali sulle punte e torna se non riesci rimani lì in squat a tenere la posizione più che puoi buono buono tieni sempre al controllo non mollare non mollare non mollare questo è cattivo da paura non mollare tienilo ancora primo stop stop non mollare non mollare dai ancora stop sali stop touch oddio come bruciavano buono ragazzi com'è terzo esercizio terzo esercizio da quella posizione osserva bene scivolo touch scivolo touch scivolo touch scivolo touch ok da basketari chiaro? ognuno mi raccomando sempre al suo ritmo uno otto sette sei cinque quattro tre due tutti a destra go touch 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 navici più che potete ognuno alla sua velocità però andiamo eh ancora ancora buono non mollarlo primo stop non mollare ancora 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 buono resisti 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 ancora stop buono step touch com'è si poteva fare sì si va a terra siete pronti andiamo su incrocia i piedi dietro push up ok appoggio sulle ginocchia va bene l'esercito è più semplice si parte con la parte alta ok siete pronti quattro tre due push e vai let's go vai così non mollare spingerai buono buono primo stop non mollare tieni meglio ancora tieni meglio ancora tieni meglio ancora tieni meglio ancora buono buono rimaniamo lì ragazzi ultimo esercizio nel circuito monta i climber da questa posizione le gambe vanno avanti e alternate prima una poi l'altra ok non andate a bomba va bene ragazzi è un esercizio che controllate non esagerate col cardio ok se no schioppate teniamo il controllo mi raccomando addominali forti schiena bella dritta e resistiamo pronti mani a terra e let's go via si parte se non riesci puoi anche rimanere in plank ma prova la mountain climber ancora ancora primo stop insiste a non mollare ma che cardio bestia questo tienilo tienilo spingi ancora 8 7 6 5 4 3 2 buono uh step touch com'è wow com'è ragazzi ci siamo stiamo andando bene datemi un segno di vita ogni tanto un like mettetelo un insulto anche va benissimo tutto potete insultare trattare male tanto è libero sfogo sfoghiamoci ne abbiamo bisogno problemone enorme oltre al fatto che mi sono dimenticato l'asciugamano e poi lo risolverò c'è un altro giro di questo circuito ok vi posso garantire che col cardio siamo belli alti ok si va round 2 ciao Diana round 2 alla grande carica bestie in piedi forza wow uh sei pronto? start touch con me vai facciamo anche la musica esageriamo esageriamo stasera continuo primo esercizio squat e lunge laterale 4 3 2 1 go squat lunge 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 dai ancora, dai ancora dico stop vai che va bene vai che va bene vai che va bene vai ancora buono, stop let's touch prima andarlo ci stiamo volendo sei pronto? andiamo in metto squat lavoriamo sui piedi mamma mia, l'intero è duro allora diamo le gambe scendi e vai sulle punte dai forza sali e stringi resta cattivo dai ancora, dai ancora primo stop non mollare non mollare buono su step touch wow fantastico sto sudando con la bestia ma ci siamo vero? wow terzo esercizio a fuori ora scivolamento laterale con touch pronti? uno quattro tre due si va scimolo touch scimolo touch attento a non scimolare per davvero lavora con controllo lavora con controllo stieni sempre con controllo buono non mollare non mollare non mollare non mollare primo stop con la momentà di intensità vai ancora vai ancora vai ancora vai ancora stop step touch si va a terra piegamenti ragazzi io sono un po' cattivo vorrei che tutti provassero a non fermarsi dal primo stop quindi push in continuità andiamo giù mani a terra pieghi ginocchi appoggiate pronti? let go push up vai ancora vai ancora vai ancora non mollare vai ancora forza 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 tieni due non mollare tieni due non mollare stop uh vedo ragazzi monta in clander ok sempre perché sono cattivo io il primo stop non ve lo do ok provate ad andare è più corto di prima faremo solo 30 secondi provate perché potete la faccio potete potete farcela buono devo ricordarmi di dire prima di che io parlerò poco e se parlerò straparlerò pronti? let's go monta in clander vai che poi c'è pausa lunga non mollare non mollare 12 secondi c'è la fine la fine 8 7 6 5 4 3 2 stop vai ragazzi trinchi dei servizi pausa lunga falta roba wow e io recupero la casca da mano falta roba grande dimenticazione asciugamano come va ragazzi come va tutto bene wow acqua acqua siamo in pausa fantastico come va ragazzi tutto a posto ci siete siamo in streaming quindi tra poco magari vedrò qualche insulto ok molto bene giro un andato perfetto buon primo blocco di lavoro adesso si entra nel secondo blocco di lavoro top bello ci piace si dai grande bene 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 molto bene adesso si entra dopo la pausa nel secondo blocco di lavoro la diretta oggi è un po' più lenta il streaming è un pochettino più lento wow ok questo era il primo blocco da considerarsi il più semplice ok adesso iniziamo a lavorare un pochettino in modo più dinamico quindi iniziamo ad aumentare l'intensità va bene e vediamo come va mi raccomando ragazzi ognuno sempre al suo ritmo non necessariamente il ritmo che do io deve essere seguito tenete presente che io rapporto molto il ritmo a come posso dire un livello intermedio di preparazione quindi non vado a una velocità altissima né troppo bassa è proprio un livello intermedio anche perché parlando allenando è l'unico che fisicamente posso supportare ok detto questo l'importante veramente è che comunque comunque cerchiamo di seguire ognuno la propria intensità non state ad esagerare ok buono si parte secondo round di lavoro alla grandissima si cresce un pochettino adesso come difficoltà allora primo esercizio quello che era uno scivolamento con touch se te la senti quando la vedi laterale diventa jump scivolò jump ok altrimenti rimane scivolamento e taccio pronti 8 7 6 5 partiamo tutti andando a sinistra pronti con me hop scivolò hop scivolò hop scivolò hop scivolò hop scivolò hop scivolò hop hop buono go vai ancora primo stop pomolare 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 ecco ancora pomolare stop hop buono step touch com'era una bella partenza recupera ragazzi drop squat lo ricordi? puoi farlo anche senza salto ok scegli tu cosa fare pronti? hop 4 4 3 2 1 drop va dai 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 intensità bestia i noi 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 ancora, vai, non volare, non volare, non volare, non volare, stop, step up, non era male, ok, terzo esercizio ragazzi, flag jack, cosa succede? Sono in flag a terra, da questa posizione, gambe, jump e chiudo, ok, la schiena rimane bella ferma, ok, mi raccomando, intensità più alta che potete, pronti? Belli aggressivi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, si parte, go! Vai, 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 cazzuti via! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, primo stop! Stop! Cattivissimo sto countdown! Ancora, ancora! Buono, 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 buono! Dai, 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 ancora! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, buono, in pieni stratage! Wow! Oh! Com'era? Tanta roba! Wow! Ragazzi, esercizio numero 4, one of my favorites! Let's go push up! Buono! Attenzione! Guardalo! Non è detto che tu debba farlo, vuoi anche fare il push up con le ginocchia a terra! Sei in flag! Da lì, pieghi le ginocchia dietro, ti snaccia avanti e push! Dietro, ti snaccia avanti e push! Ok? Vuoi anche fare semplicemente il tuo piegamento classico con le ginocchia a terra! Guarda che quando vi apri la palestra, ti interro la super esercizio! C'è un'interrogazione importante! Preparati! Pronti? Let's go! Let's go push up a destra! Dai, dai, dai! vai! State va bene! Primo stop! non mollare non mollare stop stai lì facciamoci un push up normale così, a caso per fare un po' di forza ancora incrocia le ginocchia piedi a terra e pulsa, vai via, let's go wow chi sta, chi sta reclutare un po', vai via non mollare stop in piedi yes ok ragazzi si va il calciato dietro ok intensità alta a fuoco è l'ultima stazione di questo giro pronti? 4 3 2 lezione veloce vai spingi ancora ancora tagli qua non te lo do il primo stop lo spiegi fino alla fine con me ancora 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 spingi non mollare che va bene aumenta, aumenta, aumenta 8 7 6 5 4 3 2 spettaccio si, così per fare le mani grandi sulle mani della come dicevo una pessima bar ok ragazzi preparatissimo facciamo giro ancora più breve ma c'è e noi proviamo a farlo ok noi ci proviamo perché ci crediamo ok dai spettaccio a me vai uno te lo ricordi il primo sicuramente il jump se vuoi se no sicuramente il dance pronti? 4 andiamo a destra 2 let's go stappi 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 Buono. Stattaccia. Wow. Fantastico. Esercizio 2. Drop squat. Dai, eh. Ci proviamo. Se non riesci solo squat, contaccia a terra. Cercando però di tenere la schiena più dritta possibile. Pronti? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Eccola. Non mollare. Non mollare. Non mollare. Non mollare. Non mollare. Ancora, ancora. Dai, ci siamo. E stop. Stattaccia. Wow. Non ricordi il terzo. Sei in plank. Plank jack. Apertura delle gambe, ok? Ci proviamo. Buono. Agatti. Pronti? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's go. Via. Buona. Spinghi. Non mollare. Buono, buono, buono. Attendilo, attendilo. Finché ce n'hai. Avete da avere così, Jack. Porta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buono. Ci sono i push up, ok? Vai. Te lo ricordi? Let's go. O se no, push ginocchia a terra, ok? Io credo in te tantissimo. Pronto? Vai. Let's go. Guarda il tuo plank. Vai a fuoco. Comunale. Stop. Appoggia le ginocchia. Vai per il push up. Pronto? Subito. Let's go. Let's go. E stop. Alzati in piedi. C'è la calciata dietro. Che faniglia. Tieni all step touch. È l'ultima stazione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A presto e indietro. Figgi in fondo con me. 30 secondi più duri della tua vita. Dai. Veloce, spingi, 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 spingi. wow che bello che bello ah com'è com'è ragazzi ci siamo stiamo tenendo botta bene ok e arriviamo all'ultimo circuito arriviamo all'ultimo circuito cose positive dell'ultimo circuito invece di farne 5 sono soltanto 4 stazioni ok cose positive sempre dell'ultimo circuito oltre ad essere 4 stazioni ne faremo un giro solo e queste sono le cose positive ok le cose negative del circuito sono che 1 le stazioni saranno lunghissime e siccome io sotto sotto sono molto cattivo ok non ti darò un primo stop quindi tu dovrai essere uomo o donna a fianco a me in questa avventura ok fondamentale ragazzi non mollate assolutamente ok wow sono attocchi perfetto e quindi vi dico questo è il primo discorso ok la seconda cosa importante è che dovete comunque lavorare su 4 esercizi decisamente molto impegnativi da un punto di vista muscolare e da un punto di vista cardiano ok questa è la parte sportive la parte tra virgolette quella di percorso schiallera ok proviamo a vedere cosa succede è un giro soltanto ragazzi ok partirà in modo strano perché ti dite ma perché lui ci va a fare sta l'ora è impazzito ce l'aveva detto che ci ha ammazzavato ma poi capirete perché ok quindi follow me vediamo che succede io sono con voi a voi con me aggressive a bestissima dagli a tutta wow l'ultimo circuito ragazzi eh poi è doccia la prima session wow non basta lo siamo messi qui alla grande siete pronti? ok se siete pronti si va gambe la larghezza del bacino lentamente squat ovvio che succede? è impazzito l'ultima stazione ci ha fatto questa roba ormai non notate un po' di affaticamento in più nelle gambe in questo squat io lo noto non so voi ma che l'ho provato 27 di una volta ci sta ok è un pochino più in affaticamento questo squat ok ti ricordo che non è obbligatorio che farei più in fondo può arrivare fino a metà non mollare molto bene questo esercizio si evolve continua rente appena ve lo dico diventa un netto squat con jump se non te la senti di saltare posso capirlo farei questo esercizio alla massima velocità possibile pronto? letgo oddio vai ancora vai ancora stop stop start touch una volta bestiale stai lì e l'esercizio 2 andiamo sul plank andiamoci a quella posizione sono in plank all'inizio devo soltanto starci ok pronti? letgo l'esercizio vieni a livello non mollare vai via vieni tutto a non mollare buono vai gambe e glute e andate buon mollare da quella posizione alternate prima un timozio poi l'altro in avanti così ok ma solo quando te lo dico io pronto? let's go ancora 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 non mollare non mollare che è fatta? stop non è finito terzo esercizio mi tieni il plank sulle braccia al cambio ginocchio a terra piegamenti stretti ok tremendo pronti? tieni il plank let's go tieni il plank non mollare 8 7 6 5 4 3 2 ginocchio a terra parte il push stretto let's go via a bestia non mollare non mollare non mollare non mollare stop alzati in piedi ultima soffio che è una dura ragazzi ultimissima skip forza ginocchia alte se non te la senti shuffle ok? a bestia ragazzi l'ultima 4 3 2 1 go go 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 mancano pochi secondi vieni non volare è fatta è fatta è fatta è fatta è fatta è ancora ancora gli ultimi stop bene ragazzi è andata stretching wow è andata è andata alla grandissima è andata veramente alla grandissima non andatevene via fate lo stretching gambe larghezza del vaccino allungatevi buono allunghiamo e via buono com'è ragazzi com'è andata la ripartenza oggi oggi praticamente sono ripartite manchiamo noi palestre poi però anche per noi ormai insomma è arrivato il momento quindi direi tanta tanta roba tutto bene sì siete riusciti siete ripartiti da dove ci avete seguito oggi ragazzi eravate un po di meno di solito siamo un po di più ma ovviamente oggi il paese riparte quindi non potevamo avere le pretese che fosse in tantissimi ecco wow lavorone eh bella lezione se ai nuovi è piaciuta non lo fanno sapere anche la dove ci hanno seguito mi fa veramente piacere buono apriamo le gambe bene andiamo a prenderci la punta del piede destro e stiamo vai allungati e vai buono wow 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 guarda la gente che non fa stretching e se ne va prima cambia oh ma io li troverò come dico sempre allungati bene vai venti persone sono sgamate lo stretching è una giacola ottimo in quella posizione braccio avanti un po' di mobiliti sulla schiena guarda non vi dico scivola in avanti e ritorna dritto con i mobiliti fatto bene allungati e ritorna buono allungati e ritorna buono ancora allungati e ritorna ottimo ancora allungati e ritorna buono prendi le punte dei piedi e stretch ottimo sali portiamo dietro la coscia destra stiriamo un attimo il quadricipite wow ottimo cambia gambe vai ragazzi visto che siete stati tutti veramente molto molto carini e centine in tutto questo periodo che ci avete seguito avete anche voluto molti di voi ci hanno anche voluto aiutare anche in termini di contributo quindi grazie veramente di cuore a nome mio e di lario ci avete dato la possibilità di andare avanti in questo momento su tutti i punti di vista quindi grazie grazie veramente tanto e vi chiediamo questo se avete voglia iscrivetevi al nostro canale di un altro ieri o meglio l'altro ieri ho digitato un pochettino anche di sostegno anche su youtube basta iscriversi semplicissimo non è una cosa difficile né che li comporta niente sentiamo i piedi buono prendiamo la punta ovviamente ovviamente puntare per le sue mani e stretching ovviamente ancora non c'è niente dentro nel senso che appena avremo un po' di materiale appena riusciranno a uscire a creare un po' lo creeremo però comunque insomma diventerà per il futuro anche un'ottima fonte di comunicazione cambia gamba stira wow siamo anche degli youtuber ormai non abbiamo più continui spacchiamola grande andiamo giù a prendere le punte dei piedi candela stretching bene scarica la schiena wow che bello che bello che bello buono sali su ottimo per quella posizione stretching incrocio le dita vado su estensione della colonna vertebrale dietro mobilizzarla che l'abbiamo usato parecchio ritorni in avanti e da lì prendiamo aria ispiriamo fuori ancora una volta ispira e fuori l'ultimissima volta prendi aria scendi giù appoggi le mani a terra tocchi un attimo a terra perché sali e sciogli la colonna e stop grazie mille ragazzi è andato il litro del lunedì instagram stai andando via tra 5 secondi vai via ti saluto ci vediamo domani 5.4 esito 11.15 challenge eccoci qua rimasti solo con gli amici di facebook i miei favorite perché quelli che ci seguono molto di più fantastico terminiamo qui termino termino dacca